Buongiorno, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Se vi fa piacere in questa fase attivare la telecamera, mi fa piacere vedervi anche in volto e accogliervi di persona. Io sono Paolo Lanciani, per chi non mi conosce, e terrò questo webinar per l'AM Consulting, società Benefit, nonché B Corp, con la quale ho il piacere di collaborare da alcuni anni e per la quale mi occupo in particolare dell'executive coaching. L'obiettivo di oggi, di questo webinar, è di riflettere insieme sull'efficacia dei processi di coaching e partiremo da uno sguardo ampio per entrare super nel dettaglio. Vi anticipo che citeremo ricerche, che andremo veramente a spulciare le questioni nel dettaglio e che volentieri accoglierò le domande di chiunque voglia porcele. Quindi sentitevi liberi di scriverci in chat. Credo che sia attivata. Chiedo a Simona magari di scrivere nella chat per conferma che sia attivata la chat e che quindi tutti possano partecipare. Perfetto. Quando vorrete, tranquillamente... Ok, Simona, che è il microfono acceso, mi fa il cap. Quando vorrete, tranquillamente ponete le vostre domande e vediamo anche di fare qualche break durante la presentazione per poter rispondere. Chiedo a Simona sempre di risponderci in chat se sia possibile per le persone eventualmente intervenire anche in video proprio come nozione tecnica così lo sappiamo tutti. è possibile registrare? Simona, intendi registrare la sessione? In questo momento sì, viene registrata, quindi immagino che ci sarà disponibile una registrazione più avanti. Sì, quindi vi confermo questo. Ok, allora, qui c'è il problema che io sono tedesco, mezzo tedesco. Oltre ad essere mezzo tedesco, ormai sono abituato con i webinar, a questa iper puntualità, ma volevo comunque sforzarmi di lasciare cinque minuti anche perché stanno arrivando ancora un po' di persone. Vorrei dare a tutti la possibilità di seguire dall'inizio anche perché in maniera del tutto poco commerciale ho messo le cose più importanti subito all'inizio per essere certo che siano a disposizione di tutti. Vi anticipo già che ovviamente essendovi registrati abbiamo la vostra email, quindi vi manderemo poi la presentazione arricchita eventualmente di cose che dovessero, osservazioni che dovessero emergere dal dialogo, dal confronto e approfondimenti ulteriori che verranno con le eventuali domande. Quindi, detto questo, visto che il core business di LAM Consulting è l'apprendimento, approfittiamo per una cosa, non fatevi prendere in giro quando vi dicono non preoccupatevi di prendere appunti, tanto vi mando le slide. Perché? Perché il vostro cervello funziona in una maniera che è la vostra e quindi non c'è niente che sostituirà i vostri appunti. Quindi noi volentieri vi condividiamo tutto perché magari c'è un dato, c'è un'informazione che vi fa piacere avere prescritto, ed è inutile che ve l'ha stata copiare, quindi quello non è un problema, ma lo schema, il percorso mentale, aggiustatevelo per come è funzionale a voi. Quindi prendete degli appunti che vi siano congeniali a modo vostro, perché ognuno di noi ha il proprio modo di prendere gli appunti, di organizzare le informazioni nella propria mente a seconda del proprio funzionamento. Qui sto anticipando un discorso da assessment di cui ci occuperemo nel prossimo webinar. Però ci tenevo a dire questa cosa. Intanto vedo l'illaccio chat. Ok, perfetto. Bene. Allora, sono le 14.35. Arriveranno probabilmente altre persone, ci raggiungeranno, ma avendo in programma un po' di cose da raccontarvi, da condividere con voi e volendo dare spazio anche ad eventuali domande e interventi, direi, di partire. Ho preparato una presentazione, in realtà io non sono uomo da slide, ma mi servivano, appunto, avendo un tempo molto compresso per non perdere il filo del discorso ed essere sicuro di passarvi tutte le informazioni necessarie per questo ragionamento. Allora, ho cominciato con un'immagine, li avete riconosciuti, Federer e Nadal, che deriva da un post. Deriva da un post che ha fatto Federer per ringraziare ringraziare Nadal, ma soprattutto ringraziare il suo team di supporto. Questo per ricordare una cosa molto importante, che... due cose importanti. Uno, che in quasi tutti gli ambiti, che non siano quello professionale, il coaching, il supporto di un team, di uno staff, di allenatori, di preparatori, quindi anche più articolato di una singola persona, è una cosa che è data per scontata. No? Più sei bravo, più ne profitti. Ma spesso nelle organizzazioni c'è invece il pregiudizio. Ah, ma se chiedo se chiedo di fare un coaching, cosa penseranno di me? No? Oppure, il coaching lo utilizziamo per quelle persone che hanno bisogno e non per i best performer, che è un paradosso. Ok? Quindi questo è per dire il coaching, come lo intendiamo noi, almeno quello di cui parliamo oggi, è un coaching che è pensato come investimento, non come riparazione, non come aggiusto qualcuno che non funziona e via dicendo. Poi capiremo anche quali sono le ragioni di questa affermazione, cosa dice la letteratura a riguardo. La seconda cosa, la seconda cosa che voglio sottolineare, mi ricordo che anche Andrea la citava in un webinar precedente, Andrea Magnani che è amministratore delegato di LAM Consulting, che oggi ci segue come uditore, come ospite, ma è un collega con cui ci confrontiamo molto su queste cose, ovviamente è questa, che la differenza essenziale tra il coaching in un contesto di business e il coaching in contesto sportivo è che sono ribaltate le proporzioni, nel senso che l'atleta per il 99% del tempo si prepara e per l'1% performa, e invece il professionista, il manager, la manager, vi dicendo, per il 99% del tempo performano e per l'1% si preparano. Quindi non possiamo prendere quella metafora e trasferirla uno a uno, no? Quindi il grande allenatore di pallavolo ha sicuramente grandissimi meriti sportivi, ma ha una mentalità che prevede un focus sull'allenamento che è sbilanciato rispetto a quelle che sono le possibilità operative di una persona che attiva in un contesto professionale. E quindi di questo dovremmo tenere conto e ancora una volta ci entriamo nel merito. Ok, quindi entriamo nel vivo della presentazione. Efficacia del processo di coaching. Perché non tutti i coaching, la domanda provocatoria, no? Perché non tutti funzionano sostanzialmente? quali sono i fattori che determinano il successo di un coaching e quindi come determinare il valore di un coaching? Questa è la domanda da cui siamo partiti. Quando dico siamo, ribadisco, l'AM Consulting, quindi la società che ci ospita oggi e con il quale abbiamo sviluppato e stiamo portando avanti questo approccio metodologico che vi presentiamo oggi come chiave di lettura e nel mio caso io cito solo per inciso il passaggio sullo stakeholder center coaching di Marshall Goldsmith che come fanno gli americani si proclama il miglior coach del mondo. Quello che mi ha attratto di questo modello da psicologo non mi ero mai posto il problema di prendermi una certificazione perché non pensavo mi aggiungesse del valore. In realtà di Marshall Goldsmith e del suo modello di stakeholder center coaching mi ha convinto del processo che è un aspetto particolare quindi non è la tecnica di coaching ma è proprio il modo in cui viene impostato all'interno di una cornice più ampia che è una delle riflessioni che facciamo. L'altra riflessione che faremo sicuramente invece è quella che dà il nome alla società LAM ovvero la Learning Action Plan Matrix che è la chiave di lettura attraverso la quale proviamo a guidarvi in questa riflessione. Allora prima di tutto come promesso partiamo da quello che è la cosa più più interessante più importante ovviamente sempre per noi psicologi del lavoro che è quello che ci dice la letteratura. Piccolo test non vi faccio il poll ma vi chiedo di rispondere in autonomia quindi in letteratura quindi non è una mia opinione non è una nostra visione di società ma è quello che troviamo nelle ricerche nella prossima slide vi mostro anche le ricerche ovviamente vi cito le fonti in letteratura che cosa risulta per che cosa risulta essere efficace il coaching? Sviluppo di competenze motivazione atteggiamento quindi aumentare la motivazione o migliorare l'atteggiamento incidere sull'atteggiamento della persona che partecipa al coaching sulla prestazione in senso più ampio quindi quando hanno fatto delle ricerche hanno provato a vedere su campioni molto ampi su quali di questi fattori sembra avere inciso in maniera più efficace il coaching perché una delle domande che ci stiamo ponendo è ma quando è che ci serve un coaching e quando ci serve qualcos'altro e poi ci torneremo dopo vi do anche le risposte ok seconda domanda chi profitta di più da un coaching quindi qual è il candidato la candidata ideale da coinvolgere in un coaching all'interno della propria organizzazione la persona con più potenziale chi è più motivato quindi chi ha la motivazione più alta a partecipare ad un percorso di questo tipo la persona che è più convinta del proprio potenziale quindi non un potenziale determinato che ne so da un assessment ma un autoconvincimento caspita io c'ho ancora un sacco di potenziale penso di potercela fare quello che è il costrutto che in psicologia del lavoro chiamiamo self-efficacy c'è un bellissimo test di avallone che è gratuito dell'ISFOL che potete andare a recuperare a questo proposito mi viene in mente ok terza domanda quale caratteristica del coaching impatta di più quindi è più predittiva di un successo in un processo di coaching quindi tiriamo in mezzo anche chi lo esegue questo coaching e non solo l'organizzazione e chi partecipa quello che risulta più riservato è più discreto è più confidentiality agreement queste cose qua quello che risulta più trasparente come atteggiamento quello o quella scusate naturalmente che risulta avere più esperienza di azienda nel coaching e via dicendo allora perché ho posto queste tre domande perché sono le uniche tre domande a cui la letteratura ad oggi sembra dare una risposta sulla quale ci sia un discreto accordo ci sono altre risposte altre proposte ma lì si entra nel merito dell'interpretazione nella valutazione di alcune criticità rispetto a ok ma che cosa ho guardato che cosa non ho guardato e quindi sono meno interessanti in un contesto divulgativo come questo meriterebbero un approfondimento che in questo momento non riusciamo a dare su queste tre su queste tre risposte invece c'è c'è un un buon accordo e quindi mi sento sereno nel condividerle numero uno la prestazione quindi pare che il coaching sia lo strumento più adeguato per incidere sulla prestazione della persona coinvolta nel coaching un po' meno su motivazione e atteggiamento poco o niente sullo sviluppo di competenze per quello ci sono altri strumenti numero due chi profitta di più di un coaching la persona che è più motivata a partecipare ad un percorso di coaching è la persona che ha un più alto senso di auto efficacia per chi ha in mente o anche per chi non la conosce vi segnalo Carol Dweck domodossola W Washington Empoli Como Colonia però scritto Kern in tedesco quindi Carol Dweck è una collega psicologa americana che ha lavorato sul growth mindset e fixed mindset quindi una persona che abbia un growth mindset che abbia l'idea di avere ancora del potenziale di apprendimento che sia aperta all'idea di poter apprendere e abbia desiderio di farlo è quella che ha più alta probabilità di beneficiare da un processo di coaching la persona e qui vi lascio fare riferimento alla vostra esperienza in azienda la persona che pensa di sapere già tutto difficilmente profitta da un processo di coaching no? perché che cosa farà che entrerà in quel processo con un atteggiamento di verifica vediamo se mi dice una cosa che non so vediamo se mi dice una cosa utile capite bene che questa cosa ha poco poco valore e poco senso Giuseppe mi dice non sento l'audio mi date conferma che mi sentite? sì spero che per Giuseppe si sia risolto il problema se no prova a uscire a rientrare perché sembra non essere un tema diffuso segnalo poi l'ultima risposta forse la più sorprendente che è questo quale caratteristica del coach impatta di più? la riservatezza no? la sensazione di potersi fidare e di poter essere sereni rispetto al fatto che il coach non divulgherà informazioni confidenziali riferite al proprio coach appunto è quella che sembra essere più predittiva di un successo Paolo scusami scusami se ti interrompo le slide si sono bloccate alla prima prova a ricondividere lo schermo scura se ti ho interrotto no hai fatto bellissimo grazie per avermi detto perché avevo fatto una bellissima presentazione adesso si vedono? no cosa vedete? si vede solo praticamente la prima parte la prima slide di presentazione e poi diciamo che non è come se non fosse partita la modalità presentazione adesso? adesso va bene ok quindi perfetto mi mi io che da bravo cretino schiacciamo i bottoncini chiedo scusa quindi li rivedete elencati che cosa risulta più efficace per che cosa risulta più efficace un coaching per la prestazione per sviluppare la prestazione chi ne profitta di più chi è più motivato disposto all'apprendimento e anche convinto di avere un potenziale da sviluppare convinto sia in termini di avere un margine sia in termini di avere la possibilità di riuscire a colmarlo quel margine l'ultimo discorso invece era quello della riservatezza come vi dicevo ok da dove arrivano queste informazioni qui ci sono le pubblicazioni vedete sono tra il 2018 2016 c'è neanche una del 96 quando vi mandiamo le slide questa è la classica cosa che non c'è bisogno di appuntarsi perché ve la mandiamo mi confermate che state vedendo le fonti ok grazie perfetto allora ve lo dico già non potevo farne a meno di condividere una parola che a me piace molto da mezzo tedesco che è volkskritisch che vuol dire critico cioè rilevante essenziale per il successo quindi la riflessione che voglio condividere con voi è questa quali sono i tre fattori no che sono determinanti per un successo di un processo di coaching ora stiamo andando ovviamente oltre la letteratura ed entrando in un'analisi che pur tenendone conto è più qualitativa e quindi proviamo a farci guidare da lettura per andare avanti in questa riflessione insieme allora la scelta che cosa vuol dire la scelta ricordate la prima risposta che ci siamo dati anzi no scusate prima di ricordarci della prima risposta che ci siamo dati partiamo da questa cosa qua perché alla fine è la domanda che conta questo è Marshall Goldsmith quello di cui vi accennavo prima che si nomina numero uno coach del mondo o meglio è stato nominato così da varie riviste di settore per quello che può contare per noi e allora è una domanda che viene spesso posta quando si fa un processo di coaching si dice vogliamo fare un coaching quanto costa il vostro processo di coaching visto che non è una sessione commerciale non vogliamo parlare di noi vi dico quello che Marshall Goldsmith ha dato come indicazione a chi è certificato con lui per vendere il suo processo di coaching quindi ci tengo a specificare questa non è una finestra commerciale nostra ma riguarda un fornitore altro quindi non ma ci serve per fare questo questo ragionamento concreto allora ovviamente è la domanda sbagliata se dobbiamo riflettere sull'efficacia del coaching però la risposta ci aiuta ci aiuta a entrare nel merito ovvero dicevo cosa risponderebbe Marshall Goldsmith 24.000 euro il suo processo di coaching costa 24.000 euro ho visto qualcuno che faceva così non sono pochi ma perché cosa 12 mesi il processo di coaching che propone Marshall Goldsmith dura 12 mesi sono 16 incontri da un'ora fatevi la vostra la vostra divisione e capite che cosa si fa pagare allora peraltro vi dico una cosa non è Marshall Goldsmith che si fa pagare 24.000 euro ma sono i coach certificati da lui lui si fa pagare tutt'altra cifra e secondo tutt'altro criterio perché perché Marshall Goldsmith non si fa pagare ad ore non si fa pagare a processo ma si fa pagare una proporzione rispetto al risultato ottenuto e per cui a noi sembrava interessante partire da questo esempio per uscire dalla logica del quanto costa un coaching all'ora e quanto ha senso che costi un coaching all'ora ed entrare nella logica quanto vale un coaching che è una cosa totalmente diversa no? e anche qui dipende ovviamente dipende da quello che intendiamo per coaching e allora andiamo a prendere due definizioni ancora una volta non autoriferite ma una dell'ICF che definisce il coaching come un processo in cui si è partner in un thought provoking and creative process no? quindi una una riflessione che coinvolga e faccia arrivare a delle intuizioni delle idee che ispirino il cambiamento sostanzialmente nella persona questa è la definizione che l'ICF mette sulla propria home page ho preso poi l'associazione di coaching Italia non considerate un endorsement ma semplicemente per andare a prendere una cosa che possiamo recuperare da fonte terza qui loro specificano varie forme di coaching per cui il business coaching è quello che è rilevante in questo nostro contesto è un metodo di sviluppo delle risorse fondate sul presupposto dell'unicità di ciascun soggetto questo è stato uno dei motivi che ci ha reso simpatica questa informazione questa definizione ed è sempre orientata all'operatività finalizzata al raggiungimento di obiettivi specifici e concreti quello che in questa definizione non viene ampliato esplorato ulteriormente è di quali obiettivi stiamo parlando e qui spesso casca l'asino casca l'asino anche perché se vi ricordate quello che abbiamo visto in letteratura il punto è se tu poni un obiettivo che non è adeguato allo strumento del coaching hai un problema ma ancora prima se non hai definito qual è il valore che tu attribuisci a quel processo non sappiamo di cosa stiamo parlando come possiamo farlo da questo modello voglio essere sicuro che lo possiate vedere questo è il processo attraverso il quale veniamo guidati in LAM nella definizione di un qualunque intervento che sia di coaching che sia di consulenza che sia di assessment e via dicendo quindi non è specifico del coaching ma si applica anche al coaching vedete che ci sono due riquadri definiti e sottolineati in particolare che sono gli obiettivi strategici intesi aziendali quindi cosa deve ottenere l'azienda e gli indicatori di effetto ovvero quali sono quei KPI quelle metriche che mi indicano che sono stati raggiunti quegli obiettivi tutto questo non ha nulla a che fare ancora con quale sia la soluzione identificata è molto importante distinguere queste fasi e quando queste fasi non sono rappresentate in un mandato di coaching la probabilità che quel coaching risulti effettivamente un successo è bassa è bassa perché è un evento casuale ma non causale no? cioè non si è determinato che quel coaching serve a quella cosa lì esempio che vi posso fare classico è sono stato coinvolto da una multinazionale per seguire una persona mi è stato proposto di fare un ragionamento su un'offerta su un coaching per una persona in una posizione di leadership e il punto era questa persona non trattava in maniera inclusiva le persone del proprio team ovviamente su questo loro mi hanno preso perché è un tema che a me sta molto a cuore e sul quale mi spendo anche Pro Bono abbiamo dei progetti vi dicendo e quindi sono stato subito molto interessato a questo mandato il problema qual era? che questa persona invece contribuiva in maniera drammaticamente dico io significativa al successo commerciale della propria business unit e quindi quando io gli ho detto ma scusate se questa persona è così disallineata rispetto ai vostri valori perché non la sostituite? la risposta che è arrivata da HR è non abbiamo nessuna possibilità di sostituire questa persona o mandarla via per questo motivo allora voi capite bene che avventurarsi in un processo di coaching in quel caso lì sarebbe stato surreale sarebbe stato surreale perché il processo di coaching è del tutto staccato è del tutto staccato dagli obiettivi strategici e dagli indicatori di effetto dell'azienda nel senso che anche se avessimo avuto un successo eccezionale nella migliore dell'ipotesi non avremmo danneggiato la prestazione commerciale del nostro beneficiario del processo quindi in quel caso lì io ho raccomandato di lavorare in altra maniera nel senso che non avrebbe avuto nessun senso accogliere quel mandato e poi il cliente ha fatto poi le proprie scelte in tal senso in un senso piuttosto che in un altro altro discorso altro esempio è stato quello di lavorare come coach per il country manager di una multinazionale tedesca della serie italiana di una multinazionale tedesca ora per chi non è magari in un contesto multinazionale specifico questo passaggio perché credo che sia essenziale quando tu sei country manager di una multinazionale tu in Italia sei molto importante ma rispetto a casa madre non è detto che tu sia altrettanto importante spesso sei considerato soprattutto in Italia purtroppo il commerciale di una region con un mercato relativamente poco appetibile e anche molto controverso sotto il profilo della compliance pensate ai tedeschi e il tema della puntualità del rigore dei pagamenti e via dicendo qui siamo nel mondo construction per intenderci capite bene che questi si mettevano le mani nei capelli anche solo a pensare all'Italia ok quindi questa persona aveva questa doppia identità in Italia era il CEO in Germania era il commerciale del paese rogna quando è andato una volta a un sales meeting in Germania gli hanno detto guarda sai tra l'altro devi tagliare 50% delle persone perché la performance non è in linea con il nostro forecast bene voi sapete come funziona questa cosa la riorganizzazione sono due anni in Italia lui è tornato in Italia ha chiamato per prima cosa il gius lavorista con il gius lavorista ha determinato una persona che avrebbe tenuto sicuramente che era il CFO in questi tre qua hanno iniziato a disegnare un progetto di riorganizzazione molto complesso e molto faticoso in questa circostanza sono stato coinvolto lì c'era il tema che io fossi bilingue tramite un nostro partner tedesco sono stato coinvolto da casa madre che inizialmente mi ha coinvolto per dire aiutalo in questo momento difficile ma per intendere dici che cosa succede fai da cale da guardia sostanzialmente sì la nostra quinta colonna in Italia poi lavorando su una ristrutturazione del mandato e vi ricendo uno gli ho rappresentato quello che vi ho fatto vedere all'inizio che se non c'è fiducia di segretezza poi io sono psicologo quindi sono anche tenuto segreto professionale quindi ho detto cavolo che ti dico quello che dico di cui parlo con il mio coci comunque coi tedeschi poi da mezzo tedesco so anche come ragionarmela insomma me la sono cavata siamo riusciti ad avere un mandato che fosse diverso ovvero quali sono gli obiettivi a valle del processo di ristrutturazione e quindi come possiamo iniziare a lavorare sotto traccia per essere pronti tra due anni quando finalmente si potrà partire in questa logica qua quindi lavorando su degli obiettivi strategici iniziando a definire dei KPI precisi abbiamo potuto impostare un processo di coaching che avesse un senso in questo caso peraltro abbiamo capito che per forza doveva essere un processo di coaching e non di consulenza perché intorno a noi c'era tutta un'organizzazione che stava cambiando cioè cambiavano le persone del board per intenderci e non lo sapevano ancora poi immaginate lo stress a cui è sottoposto una persona deve continuare a dire andrà tutto bene andiamo avanti così tranquilli ce la facciamo e poi purtroppo dobbiamo rinunciare a e poi di nuovo andrà tutto bene ormai siamo noi andiamo avanti per due anni vi assicuro che è stato un mandato ancora adesso molto molto faticoso apro chiudo parentesi avere un supporto psicologico e una supervisione come professionista è essenziale perché se no si rischia veramente di andare in risonanza e fare dei grandissimi casini quando ingaggiate qualcuno verificate che abbia una supervisione e abbia un team a cui riferirsi e con quale confrontarsi perché nessuno è un supereroe neanche il miglior corso del mondo questo apro e chiudo parentesi perché quell'esperienza lì per me è stata non sarei riuscito assolutamente a gestire quella situazione se non avessi avuto una supervisione che regolarmente potessi ingaggiare per capire quando stavo lavorando e quando stavo reagendo ok quindi l'altra provocazione che vi lancio è questa abbiamo visto prima quella cifra 24.000 euro e ci è sembrata così campata per aria non ha senso allora il punto è un coaching che non abbia la prospettiva di restituirci il 1000% non è non è un coaching che ha senso di esistere non è un intervento di formazione che ha senso di esistere non è un intervento di consulenza non è niente niente ha senso di esistere se non ci garantisce un impatto sul business che sia 10 volte la spesa 1000% eh 10 volte la spesa che capite bene poi dipende dal contesto dipende dalla situazione un conto è la PMI un conto è la multinazionale ovviamente le leve sono diverse quindi le proporzioni sono diverse ma per darvi un riferimento no? questo perché perché ancora una volta è vero che non c'è una relazione lineare tra quello che è l'intervento sulla persona e quello che è l'impatto cioè non è perché c'è stato il coaching allora succede che ma se non pensiamo che sia un fattore determinante per incidere sui numeri dell'azienda stiamo facendo un'attività che è un nice to have e quello è il commitment che avremo abbiamo visto che il commitment è un elemento fondante no? è il commitment non solo del coci ma di tutta la struttura no? Andrea in un altro webinar parlava del fatto che io devo andare dal CFO e parlargli di numeri non parlargli eh di quanto sia importante la servant leadership o l'emotional leadership se vogliamo tornare un po' indietro eh negli anni no? non è un tema HR è un tema di business e quindi lo sforzo iniziale deve essere quello di ricondurlo ad una questione che è di business quindi il coaching serve a cosa? al raggiungimento di obiettivi strategici e a la verifica attraverso indicatori di effetto a chi? ad una persona target ovvero una persona che sia una leva su cui ha senso agire per modificare per ottenere quegli obiettivi strategici e quegli indicatori di effetto e per gli stakeholder e le stakeholder di quella persona perché quella persona non è per aria no? la complessità appunto di fare questo collegamento è il fatto che siamo all'interno di un'organizzazione di un sistema e l'altra cosa è quando serve un coaching quando c'è l'esempio che facevo prima l'organizzazione quindi una challenge cioè c'è un motivo per cui la persona il ruolo è particolarmente sollecitato o deve essere particolarmente proattivo la business challenge non deve essere per forza intesa in senso negativo anche il contesto oggi un po' ci porta in questa direzione ma può essere anche positiva dobbiamo raddoppiare il numero delle persone dobbiamo raddoppiare le quote di mercato dobbiamo includere una e integrare una nuova business unit piuttosto che queste sono tutte challenge che richiedono uno sforzo eccezionale e qui stiamo un po' anche anticipando e vi ricordo a cosa serve serve a incidere sulla prestazione ci dice la letteratura non sulla prendere una nuova competenza e questa è la direzione in cui stiamo andando cioè ci serve un coaching quando abbiamo un determinato tipo di obiettivo che coincide con obiettivi di business con obiettivi persone chiave su cui agire che coincide con challenge specifiche rispetto alle quali essere efficaci il secondo passaggio è quello di andare a individuare da cosa dipenda sostanzialmente un coaching e quindi voglio tornare un attimo indietro allo schema generale scusate se mi hai fatto saltare abbiamo detto abbiamo gli obiettivi strategici abbiamo gli indicatori di effetto adesso andiamo a individuare gli indicatori causali ovvero su che cosa dobbiamo nel concreto agire con quella persona perché quella persona sia all'altezza di quella sfida agisca efficacemente su quegli stakeholder ultimamente ci aiuti a raggiungere a incidere sui KPI e raggiungere i nostri obiettivi strategici e qui abbiamo quattro dimensioni il sapere il saper fare il voler fare il poter fare che abbiamo declinato ulteriormente in sottodimensioni che sono individuale e sistemica uno dei rischi grossissimi oltre a quello di isolare il processo di coaching rispetto a quella che è l'attività di business e il contesto di business e quello di isolarli rispetto alla dimensione sistemica questo perché ovviamente quando ci concentriamo entriamo in maniera verticale andiamo in maniera verticale sulla questione e rischiamo di perdere per strada quello che è il contesto quasi determinando il fatto che quella persona sia in ultima analisi responsabile in prima persona di tutto voi sapete benissimo che uno dei limiti grossi della formazione degli assessment se avete mai fatto delle esercitazioni o dei business case uno dei grossi limiti è che tu metti lì un candidato a fare una grandissima esercitazione adesso io farei così poi farei cosa poi scrivo a quello poi faccio quell'altro ma quando sei in azienda questa cosa vale quanto il 2D pic perché se dall'altra parte ti risponde una persona svogliata che quel giorno lì non ha voglia di fare tu non combini niente se quell'email che tu hai mandato l'hai mandata a 5 persone e nessuna di quelle 5 persone ti risponde tu hai un problema se SAP ti mette un veto rispetto ad un'attività e tu non sai che cosa farci e quindi dici vabbè non si può fare perché SAP ha detto di no caspita saremmo tutti falliti come aziende se dovessimo dare retta a SAP no? l'arte del management è riuscire ad aggirare i sistemi gestionali e i vincoli che ci pongono i sistemi gestionali che giustamente ragionano secondo una norma secondo una regola no? ma il coaching non ha a che fare con l'essere adeguati alla regola ma col fatto di accettare una sfida che richiede un'eccezionalità e quindi una capacità di interagire con il sistema oggi non possiamo entrare nel merito delle quattro dimensioni ma ve le ho volute comunque indicare anche perché qui in molti casi siamo persone esperti dei char quindi in grado a partire da qua da fare già dei processi e delle riflessioni che possiamo volentieri continuare poi ok quindi questi sono gli indicatori causali poi come la sintetizziamo questa cosa? in questo modo qua sapere non inteso come acquisizione di nuove informazioni ma di metabolizzare il proprio sapere di renderlo qualcosa di proprio di veramente profondamente integrato nel nostro agire di comprendere in autonomia quali sono i gap che posso avere o quali sono le ricerche e le cose che devo approfondire ma non è il coach o il coaching che approfondisce il coach e il coaching sollecita questa dimensione che però e da qui il discorso del desiderio di apprendimento e della motivazione è il coach che in automatico sviluppa questa dimensione allora l'altro è il saper fare quindi anche qui non è una cosa che si fa insieme vi ricordate quello che ho detto all'inizio non è 90% 99% allenamento e 1% performance qui il tema è dare alla persona uno spazio preziosissimo di stare a bocce ferme a riflettere su quello che sta succedendo e quindi il saper fare non è allenato nel senso di facciamo le prove facciamo gli esercizi alleniamo una competenza tant'è che abbiamo detto il coaching non è efficace sulle competenze ci sono altri strumenti per quello che sono più efficaci ma è un tema di ok devo riflettere sul mio agire devo progettare devo capire ok da un punto di vista strategico come posso affrontare i prossimi sei mesi chi devo ingaggiare su cosa come posso monitorare l'efficacia di quello che sto facendo è sostanzialmente la centrale di controllo che noi attiviamo con una persona dandole e anche lì la possibilità appunto di avere quello spazio di confidenzialità assoluta dove si può dire anche la peggio cretinata o la cosa anche politically incorrect o che sembra sbagliata o lamentarsi di qualcosa rispetto all'azienda sapendo che siamo in uno spazio tutelato e che ci permette di digerire quella cosa e di andare oltre e di ritornare in pista in pista per fare cosa per fare il salto di qualità e per passare da una logica che è quella della motivazione strumentale voi sapete c'è la motivazione strinseca ed intrinseca motivazione strinseca è quando c'è un fattore esterno che mi motiva ti do dei soldi ti do l'incentivo fai una cosa Herzberg già negli anni 70 dice questa non è motivazione appunto è incentivazione ma non produce movimento perché al momento in cui finisce l'incentivo finisce il movimento se invece io imparo a fare una cosa quella cosa mi spinge a volerla fare di più perché la so fare mi piace farla mi dà gusto farla allora esiste una una fase intermedia che è molto tipica delle aziende poco esplorata che è quella strumentale ovvero decido di essere efficace di offrirmi come project manager perché questo mi farà poi domani diventare head of business unit leader piuttosto che no? ma devo passare di lì non c'ho voglia di farlo pensate ho lavorato tanto con Eni quelli che sono costretti ad andare a lavorare sulle piattaforme petrolifere non è l'ambizione tipica delle persone andare a lavorare sulle piattaforme petrolifere per un giovane ingegnere ma sanno che quello è un passaggio di carriera necessario poi cosa succede? su quelle piattaforme qualcuno scopre che si diverte e che gli piace impara a farlo impara è sollecitato dalla dimensione adrenalinica anche sfidante e finisce per passare da quella che è una motivazione strumentale ad una vocazione vocazionale quindi ci sai che c'è io non voglio più venire a lavorare al quartiere generale io voglio rimanere sulle piattaforme petrolifere altri invece rimangono in quella fase lì e quindi va bene così infine poter fare allora qui la dimensione è molto importante e ovviamente stiamo parlando di executive coaching in questo caso ma anche di middle manager che iniziano ad avere un ruolo di responsabilità importante e rappresentativo il tema non è decidere se l'azienda fa bene fa male giusto sbagliato se siamo d'accordo o non siamo d'accordo ma la nostra capacità di pensare in una logica business oriented svincolata dallo specifico ruolo dalla specifica responsabilità la capacità di gestire il fatto che ci sono cose che non sono ideali ma vanno gestite proprio perché non sono ideali proprio perché non funzionano dobbiamo essere efficaci nel gestirlo e vanno sapute rappresentare alle persone verso i quali verso le quali si hanno delle responsabilità ecco queste capacità qua quindi non è il fare in modo che l'azienda faccia quello che è giusto o migliori o faccia ma è la nostra capacità di essere rappresentativi di essere intelligenti quindi non in senso astratto ma organizzativamente intelligenti e commercialmente intelligenti ok quali sono i prerequisiti quali sono le chiavi che ci servono di lettura il processo che ci può essere utile per essere efficaci in un processo di coaching quindi il coaching serve se il coaching serve se ci sono determinati prerequisiti qui ancora una volta mi riferisco al buon Marshall Goldsmith che ha individuato questi tre e che in qualche modo ci richiamano a quello che dice la letteratura uno umiltà no devo aver voglia di devo avere l'idea di poter imparare qualcosa e quindi di poter entrare in una logica di apprendimento ovviamente il coach non è un insegnante no e quindi non è una questione di training one to one no così non ti vergogni allora ti insegno faccio le ripetizioni individuali ma è comunque un atteggiamento in cui la persona si deve mettere in discussione un discorso di coraggio ovvero di dire uc aspetta devo cambiare delle cose devo sperimentare delle cose devo affrontare delle cose devo gestire delle cose sono delle sfide che devo gestire no una dimensione di disciplina ovvero la determinazione a farlo perché se no il coaching rischia di rimanere un esercizio intellettuale allora voi avete in mente che ovviamente le persone che sono in una posizione di leadership top management e vi dicendo sono persone intelligenti io di persone stupide in azienda raramente ne ho incontrate no ma di persone intelligenti che ti dicono sì sì ah beh certo dovrebbe essere ah caspita molto interessante ma guarda mi sono letto il libro ho letto questo ho letto quest'altro hanno letto tutto no conoscono tutto ma poi dopo non fanno niente perché fare costa fatica costa coraggio e costa umiltà quindi se non ci sono verificate queste tre precondizioni è molto difficile che quel coaching abbia una qualche efficacia queste ve le segnalo non per dirvi dovete fare un assessment lo riconoscete anche voi lo sapete anche voi se una persona ha o non ha questo tipo di atteggiamento di disposizione prima di ingaggiarla quindi è una cosa che vi segnaliamo perché è veramente autoesplicativa in molti casi e quindi può produrre valore l'altro discorso è questo ci vogliono clavi di lettura che ci permettano che permettano alla persona di leggere di leggere cosa se stessa e quindi l'efficacia personale vi rimando nella nostra sezione risorse c'è un articolo che si intitola la curva di efficacia personale è lì a disposizione quindi andatelo a consultare se vi fa piacere e che descrive proprio quando la persona in quali condizioni la persona sia efficace anche lì ovviamente ci sono i riferimenti letterari e vi ricordo tutte queste cose qua adesso non abbiamo il tempo di interagione e merito ma è sicuramente una prima chiave di lettura che mi serve quindi non il modello lo stile di leadership la cosa che devo imparare ma degli occhiali qualcosa che mi permetta di leggere quello che faccio abbiamo detto prima che il saper fare non è una cosa che imparo ma è una cosa che rileggo che progetto che costruisco conoscendo me stesso no? e ancora una volta vi ricordate c'è il tema della self-efficacy che è sia un prerequisito in letteratura ma è anche una leva su cui agire quindi l'autoconsapevolezza la crescere la propria consapevolezza l'affinare la conoscenza su se stessi è fondamentale soprattutto nelle situazioni critiche e l'altra ovviamente invece è una chiave di lettura che sia sistemica quello che noi chiamiamo stakeholder mapping e quindi la capacità di non pensarsi in assoluto quindi ancora una volta rispetto a il leader deve essere così il leader deve essere cos'ha ma dove sono qual è il contesto qual è la cultura qual è l'obiettivo di business e veramente avere una chiave di lettura che mi esca ok entro in una riunione chi c'è in quella riunione quali sono gli obiettivi di quella riunione quali sono le funzioni pensate alla persona che è in una posizione di leadership in un board aziendale ne parlavo recentemente ci siamo comportati anche con Andrea su questo il CFO il CFO rappresenta una funzione no? e quindi quando è seduto nel board rappresenta la funzione amministrativa poracci loro in questo periodo stanno veramente scontando tutte le pene e i mali che gli abbiamo augurato in passato perché ovviamente passano da essere quelli che ti dicono cosa succede tra due anni e dirti fai in modo che succeda a essere quelli che non sanno cosa succede domani e alzano le mani quindi abbiamo a cuore queste persone in questo momento veramente difficile al di là di questo dicevo il CFO ma può essere il CEO il direttore di produzione commerciale quello che volete voi rappresenta la sua funzione ma allo stesso tempo è parte del board che deve pensare oltre la propria funzione no? caspita in questo modo qua avere questa doppia capacità di leggere questa doppia dimensione è estremamente complesso e richiede una capacità di leggere di analizzare la situazione da più punti di vista contemporaneamente di fare sintesi che è molto complicata questa è la vera sfida di chi entra in un organo direzionale poi abbiamo detto il coaching in punto di vista c'è un processo anche no? il processo qual è? è quello dell'azione osservazione azione osservazione niente di segreto niente di complicato ma semplicemente se non c'è un'azione tra una sessione e l'altra difficilmente c'è un'osservazione e l'azione da cosa è determinata? è determinata dal fatto che ci sia un obiettivo abbiamo detto che non è l'obiettivo diventa un leader migliore ma raggiungi determinati obiettivi di business l'altra cosa che abbiamo detto è il tema del feedback allora letteratura infatti c'è una grande controversa su questo non l'ho accennato ma lo troverete negli articoli se vi andate a leggere che dipende da cosa allora un buon feedback è autoesplicativo è autoevidente perché? perché il feedback che dice se è stata fatta o non è stata fatta una cosa se è stato raggiunto o non è stato raggiunto una cosa cioè non è una valutazione qualitativa non è l'espressione di un apprezzamento o meno cioè quel KPI è cambiato o non è cambiato il turnover si è ridotto o non si è ridotto le azioni che avevamo concordato per stare a un passo indietro nella nostra analisi lei l'hai messa in campo o non l'hai messa in campo questo non richiede un'operazione di delicatezza oggettività cosa è ovvio che se noi non abbiamo determinato delle azioni concrete e osservabili ma lavoriamo sulle intenzioni sulle buone intenzioni e via dicendo siamo in una sfera dove l'efficacia non è assolutamente misurabile ma se invece noi misuriamo su l'hai fatto o non l'hai fatto e questo fatto ha prodotto un effetto o non ha prodotto un effetto e questo ci porta ovviamente all'ultimo punto la valutazione dell'impatto sui KPI no? e questo qui ancora una volta è un ciclo nel senso che non è che l'hai fatto non ha prodotto effetto fine lì cerchiamo di riprendere un'analisi perché quel processo di analisi di macroanalisi che parte dagli obiettivi aziendali e va a definire un'azione è il macro processo che fa HR che fa l'organizzazione in senso più ampio ancora nel determinare se scegliere un processo di coaching e che tipo di processo di coaching ma è anche quello che deve succedere nel coaching perché coach e coachee devono riflettere questo è l'obiettivo di business queste sono le leve su cui posso agire queste sono le azioni che posso mettere in campo metto in campo un'azione e verifico quell'azione produce o non produce un effetto l'ho messa in atto o non l'ho messa in atto e quindi si creano questi cicli azione osservazione azione osservazione sulle varie dimensioni il feed forward che vedete qua che ancora una volta è mutuato dallo stakeholder center coaching anche lì se siete curiosi sul sito trovate nelle risorse una spiegazione di come funziona lo stakeholder center coaching ma che cosa succede? sostanzialmente l'idea è hai bisogno di incidere sull'efficacia delle persone chiedi a loro che cosa hanno bisogno vi faccio un esempio concreto questo in un contesto legal quindi all'interno della funzione legal di un'azienda il general counsel ha l'obiettivo di sviluppare meglio le proprie persone voi sapete che sono strutture relativamente compresse quelle del legal quindi non hanno molta profondità quindi è molto importante che le risorse sotto il general counsel acquistino una seniority che tolga lavoro alla consulenza e lo porti internamente e soprattutto con una rega molto fruibile dall'azienda se tu c'hai dentro gente che fa l'avvocato e fa lo studio gioca a fare lo studio legale non ha capito la propria funzione quindi c'è un lavoro che va fatto allora il lavoro che abbiamo fatto in questo caso è stato quello di dire senti le tue persone e senti di cosa hanno bisogno queste persone le hanno detto una di queste persone gli ha detto guarda a me servirebbe che quando io scrivo un documento che secondo te non va bene perché non è comprensibile dal business e via dicendo tu invece di metterti lì e riscriverlo con me perché lui comunque era molto attento e proattivo nel seguire le proprie persone no? e quindi si metteva al computer va vedi qua dovevi scrivere così qua dovevi scrivere cosa e riscriveva il documento sostanzialmente invece di fare così per favore fai un'altra cosa segnamelo sulla carta così che sia io a doverlo riscrivere allora questa cosa qua ha cambiato ha cambiato l'impatto che ha avuto sullo sviluppo delle persone in una maniera così radicale che nel giro di tre mesi arrivavano le mail spontanee del business al general council gli dicevano non so cosa hai fatto ma i tuoi ragazzi scrivono in un modo che io capisco che cosa stanno scrivendo anche quando non l'hai scritto tu perché ovviamente loro lo riconoscevano se l'ha scritto lui non l'ha scritto lui ok? è stato proprio un cambiamento radicale intero con l'organizzazione proprio del percepito di quella funzione che si è risotto si è ritradotto in cosa? si è tradotto in una riduzione delle spese della consulenza legale e voi sapete se siete in una qualunque industria che ha un regolatore pesante quanto conti non le spese legali è una delle ultime funzioni che resiste penso all'energy penso all'infrastructure e via dicendo che resiste al budget no? io ho ancora clienti in house che non hanno budget sostanzialmente HR ha il contagocce su qualunque cosa anche sulle fotocopie che fai il legal essendo che dal fatto che si prenda o non si prenda quell'appalto dipende il business ovviamente può fare il cavolo che vuole allora quando quel cavolo che vuole spontaneamente riduce e caspita hanno fatto veramente festa purtroppo io non sono Marshall Goldman non mi sono fatto pagare in percentuale all'impatto sul business in quel caso ma sarebbe stato uno di quei classici esempi ovviamente questo è un esempio eclatante molto evidente ma è per rendervi l'idea ok quali sono le competenze del coach? chi dovete cercarvi come coach allora è come chiedere all'hoste se il vino è buono lo confesso lo dico apertamente non ci posso fare niente però deve avere delle competenze psicologiche deve avere delle competenze psicologiche per quello che vi ho detto prima quando citavo il caso dell'accompagnare il country manager in una ristrutturazione quindi per questioni delicate deve avere una competenza psicologica nel capire quando il tema è psicologico a me è capitato in delle occasioni di dire signori qui non c'è bisogno di un coach qui c'è bisogno di un collega che si occupi di psicologia clinica e non perché la persona fosse matta ma perché ci fosse un tema c'era un tema di burnout e di sofferenza che non era più nella sfera del coaching quindi e quindi non bisogna avere un atteggiamento di onnipotenza perché il mandato deve essere chiaro il mandato di un coach che è business è un mandato che deve impattare sui risultati organizzativi il mandato di uno psicologo clinico è il mandato di una persona che deve puntare al benessere della persona sono due percorsi che hanno obiettivi diversi e funzioni diverse quindi è molto importante distinguere queste cose soprattutto in situazioni come quelle che stiamo vivendo sono molto complesse quindi dove bisogna fare il distinguo io sono psicologo psicoterapeuta e quindi so benissimo che non devo mai entrare nella dimensione della psicoterapia no? quindi non è una questione di avere o non avere le competenze non è quello che sto dicendo è una questione di sapere qual è il proprio mandato ma in quel mandato quindi di coach c'è un tema psicologico che è quello dell'efficacia personale se è andata a leggere la curva gli autori che noi citiamo sono tutti psicologi sarà un caso? non lo so sicuramente è utile conoscere la psicologia non deve essere per forza uno psicologo non voglio dire questo ma la competenza psicologica è essenziale è essenziale la competenza organizzativa per quello che abbiamo ribadito tante e tante volte attenzione competenza organizzativa non vuol dire aver fatto un'esperienza in azienda ancora una volta poi ognuno fa quello che vuole ci sono persone ex manager che sono coach eccellenti di cui ho grandissima stima ce ne sono altri che sostanzialmente ti raccontano la loro esperienza no? allora quello è il coach mentor neanche il coach mentor il coach guida spirituale che ti dice eh ma si fa così funziona cos'ha funziona è un'altra roba quella non è coaching ok? esperienza organizzativa competenza organizzativa vuol dire che io conosco le dinamiche organizzative conosco le dinamiche tra una funzione e l'altra so che cos'è un sistema gestionale so come impatta il sistema gestionale sull'operatività ho in mente qual è la dimensione strategica dell'azienda ho in mente i tempi di latenza che ci sono tra quando vengono definite le cose tipicamente intorno al 15 di agosto a porte chiuse quando tutti sono in vacanza e quando quella strategia poi dopo 6, 7, 8, 10 mesi ha il suo roll out e come quel roll out passi per dei passaggi per cui l'ultimo è in quella situazione paradossale per cui sta lavorando su una strategia che è già superata dalla strategia successiva e come ci siano programmaticamente delle conflittualità tra funzioni no? finance e commerciale commerciale e procurement e procurement e via dicendo e perché esistono quelle quelle conflittualità e qual è la logica di quelle conflittualità e qual è il mandato che viene dato alle persone nel gestire quella complessità quindi questa è sicuramente una dimensione che va preseduta per cui va verificato che ci sia e l'altro discorso è che sia una persona che abbia delle competenze rispetto al tema dell'apprendimento ancora una volta qui non è il tema di insegnare ma è il tema di sapere di avere comprensione di come avvengono i processi di apprendimento e soprattutto i processi specifici sulle singole persone io mi sono dilungato purtroppo oltre il tempo che avevo previsto ovviamente le dimensioni sono interattive tra di loro e vi lascio con tre domande tre domande che ci tocca chiederci ci tocca porci ogni volta ripeto vi mando tutto quanto quindi non abbiate ansia di copiarvele sono certo che il coaching possa impattare in termini economici ricordatevi la regola di avere un impatto che è almeno dieci volte il costo del coaching dipende effettivamente da quel ruolo quell'impatto economico e da quella persona potrei fare a meno paradossalmente di quella persona il ragionamento che facevo prima perché questa domanda fa emergere se effettivamente abbiamo identificato la leva giusta sulla quale agire perché se diciamo no vorremmo riparare la persona ma non c'entra niente con gli obiettivi di business o meglio quegli obiettivi di business sono già raggiunti ce la stiamo raccontando il problema è un altro e l'ultimo è c'è il potenziale necessario e il potenziale necessario sono i prerequisiti di cui ho parlato prima in termini personali la self-efficacy la motivazione la disponibilità all'apprendimento ma anche in termini organizzativi ovvero il fatto che l'organizzazione abbia identificato l'obiettivo e lo strumento prima del mandato quindi non è una soluzione ma è abbiamo fatto quel ragionamento e l'organizzazione è settata su quel ragionamento e quindi può accompagnare questo ragionamento e questo investimento non è adesso c'è il coaching devi riuscirci da solo non è una delega in assoluto ok questi sono i contatti ripeto un po' li avete un po' ve li rimanderemo qui abbiamo messo l'ormeggio perché abbiamo fatto un omaggio ad Andrea che è un velista appazzionato ultimamente torno in una modalità visivo ringrazio Angela che mi ha fatto compagnia con la telecamera perché almeno ho avuto un volto che mi desse dei feedback però vedo che siete ancora in molti collegati quindi se ci fosse una domanda un commento una curiosità una richiesta di approfondimento che ovviamente non possiamo fare in questo momento ma che volentieri integriamo poi nel materiale che vi manda Simona questo è il momento un momento ottimo per farlo ovviamente ci potete scrivere in qualsiasi momento ecco ormai siamo tutti iperconnessi quindi lascio a voi la parola ho la chat ovviamente io verifico che se qualcuno ha scritto no ciao Maurizio intanto vedo persone ok grazie grazie a te Sara del feedback oh qui si sta sono io che ho condiviso questa cosa non credo sì mi sa di sì Paolo no 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 qualcun altro ha voluto condividere qualcosa con noi mi segnalo che state condividendo qualcosa non sono io eh vabbè ecco adesso smarcherà questo questo questa condivisione ok ah ecco guarda che arriva una domanda eh da Denisa nel caso in cui il coach non fosse uno psicologo è comunque raccomandata la supervisione durante il mandato assolutamente sì grazie Denisa per la domanda eh ovviamente il il tema della supervisione non è prerogativa degli psicologi e quindi è assolutamente raccomandata grazie grazie mille per la domanda quindi anzi soprattutto se non si è no non è vero comunque eh quindi coaching non può essere una risorsa interna ottima domanda eh non riesco a ricifrare il nome eh chiedo scusa ehm allora il coaching può assolutamente essere una risorsa interna eh Marco ok grazie eh Marco il coaching può essere il coach può essere assolutamente una risorsa interna dipende dagli obiettivi eh e dipende molto dalla costellazione allora come per il mentor la regola è che non può essere in una linea gerarchica diretta eh neanche a tre livelli di distanza quindi deve essere una persona di un'altra business unit eventualmente eh è sconsigliato che sia un HR per quel tema che abbiamo detto prima dell'efficacia ovvero il fatto che c'è un tema di confidenzialità eh no e allora eh c'è un conflitto di interessi eh se io confido una cosa eh a qualcuno di cui io abbia il sospetto io non sto mettendo in discussione l'eticità della persona che fa il coaching internamente a prescindere dal ruolo dal ruolo dalla funzione anche dal contesto gerarchico ma del legittimo pensiero che viene a me come coach pensando sto dicendo sta cosa qua a uno che poi determina eh le ferie le cose le promozioni parla con e via dicendo questo retto pensiero rischia di essere un freno in questo senso qua allora se per coaching intendiamo un training personalizzato io non intendevo quello per coaching oggi è un altro discorso assolutamente può essere una scelta valida in letteratura addirittura il fatto che ehm ci sia un addestramento personalizzato da parte di persone interne è riconosciuto come un valore aggiunto eh e lì troverete la sopravvaluzione col termine coaching per un motivo che quella persona interna conosce molto bene l'organizzazione e i vincoli posti dall'organizzazione adesso non l'abbiamo visto ma l'esplorazione dei vincoli anche per il coach esterno è essenziale eh perché ovviamente se io non so il contesto in cui sto agendo eh è molto più difficile per me agire ehm e non vi nego che eh l'esperienza diretta ci dice anche che noi risultiamo estremamente efficaci eh a fare coaching in aziende che abbiamo imparato a conoscere e quindi l'aumentare della conoscenza dell'azienda aumenta la nostra efficacia anche come consulenti in questo senso il coach interno può assolutamente costituire un valore aggiunto con quelle criticità che ti ho rappresentato quindi il rischio che ci sia un reto pensiero di paura di essere in qualche modo traditi anche se non ce n'è motivo e l'altra questione è la questione gerarchica e il fatto che un conto è ehm avere a che fare con una persona che è un terzo indipendente per cui è fuori dai giochi un conto è avere a che fare con una persona che è coinvolta direttamente eh no qual è il tema della supervisione che facevo prima che citavo prima il tema è che io sì ho bisogno di supervisione ma perché magari quella cosa mi preoccupa mi mette ansia di dicendo ma non incide non cambia la mia vita se invece una persona ha un obiettivo challenging come quello della ristrutturazione piuttosto che quello dell'integrazione di una business unit spostare vari milioni di euro e io so che il fatto che quella cosa succeda o non succeda per me è veramente importante e io anche come coach sono dentro in un'altra modalità cioè è molto difficile essere un coach efficace a prescindere dalla propria competenza eh quindi non è una questione di avere o non avere le competenze avere o non avere il potenziale umano per farlo non è un caso che io conosco molte persone anche di estrazione forse soprattutto di estrazione ma non solo che a un certo punto hanno riconosciuto un talento una vocazione per il coach e hanno scelto di uscire dall'azienda perché hanno riconosciuto che erano potenzialmente più efficaci per l'azienda essendo da fuori tanti addirittura rimangono fornitori della propria azienda d'origine no? quindi eh non c'è una risposta netta spero comunque di aver ti risposto prego Andrea mi viene in mente una cosa un così un suggerimento su questo tema semplicemente perché credo che ci sia di fondo una a volte anche un po' di ambiguità nell'utilizzo dello stesso termine no? diverse volte diverse aziende ci hanno chiesto per esempio di formare delle persone dei manager dell'azienda al coaching perché potessero essere coach dei propri collaboratori diretti no? e adesso chiaramente tu sei orientato a parlare veramente di coaching quindi è chiaro sei in una modalità di pensiero che non hai pensato evidentemente a questa cosa ma lì è semplicemente perché ci sono delle competenze di base del coaching definizio come guidare una persona in modo maieutico diciamo per togliere un po' quell'atteggiamento di persone che ricoprono una funzione manageriale senza avere una preparazione manageriale e quindi un po' tendono a imporsi allora voglio sostituire quel tipo di managerialità con una più maieutica guido le persone a definirsi gli obiettivi guido le persone a definirsi una strategia per raggiungerli e queste sono un po' delle competenze di base dai CF anche del coaching quindi c'è l'idea di che faccio diventare i miei manager anche coach in realtà si parla di dare a loro alcune competenze che sono proprie di un coach credo che ci sia un po' questa ambiguità assolutamente hai fatto benissimo a sottolinearlo allora che un manager abbia delle competenze di coaching è auspicabile è parte del suo profilo di competenze e quindi che abbia questo atteggiamento quindi in questo senso Marco se quella era la domanda assolutamente sì è importante però è evidente che quel manager quelle competenze le spende all'interno di un ruolo che è più articolato mentre io che vengo da fuori come coach ho solo l'obiettivo di fare coach non ho l'obiettivo di gestire la tua persona di determinare o non determinare la tua promozione di assegnarti o non assegnarti dei compiti di business e via dicendo è questo che cambia io come esterno non decido io come coach ma anche manager invece ho anche una responsabilità decisionale e quindi è un'alchimia è una complessità del tutto unica molto molto peculiare di grandissimo valore e che non può sostituire ovviamente uno fuori la cosa peggiore che vi può succedere è per esempio un team leader che faccia un team coaching in cui il team coach si sostituisce al team leader no? è una porcheria galattica perché ovviamente quello lì fa il bello cattivo tempo ma sta deautorizzando cioè togliendo ruolo al team leader e poi soprattutto non può perseguire e veramente decidere essere incisivo quindi lì è sempre c'è una complessità da gestire molto delicata in alcuni casi è meglio avere un coach che sta dietro le quinte e lasciare che sia il team leader a fare un coaching alle proprie persone anche come team ci sono soluzioni e soluzioni quindi quello che è il discorso è che vorrei sottolineare questo che non esiste una soluzione confezionata su misura ma dipende da che cosa si voglia ottenere e quindi noi dobbiamo sempre partire da questo è l'obiettivo di business questi sono i KPI queste sono le persone target su cui dobbiamo intervenire capiamo di che cosa hanno bisogno quali sono i fattori causali in base a quello definiamo lo strumento no? vogliamo migliorare le persone facciamo coaching o facciamo formazione o facciamo qualunque altra cosa è arrivato un altro intervento le regole dello spogliatoio insomma se vuoi assolutamente dipende quali sono quelle regole ok fatemi sapere se ci sono altre domande altre curiosità io ho ancora qualche minuto lo ho volentieri per voi se vi hanno sorpreso o meno per esempio i findings scusate il termine inglese delle ricerche che vi ho rappresentato mi fa piacere saperlo anche lì vi cito la metafonte perché è un lavoro che trovo molto interessante e molto nobile quindi mi fa piacere citarli colleghi di Science for Work Scienza per il lavoro in inglese è un sito di un'associazione senza fine di lucro di colleghi e colleghi psicologi che divulgano ricerca scientifica evidence based citando sempre le fonti in maniera molto puntuale ci sono alcuni se alcuni ma sul tema dell'evidence based che ovviamente vanno considerati ma comunque è un lavoro lodevole intanto che aspettiamo qualche eventuale domanda vi racconto anche come nasce questo gruppo ciao Marco grazie a te grazie a tutti per la partecipazione loro sostanzialmente erano un gruppo di studenti di psicologia che a un certo punto vedeva su LinkedIn che c'erano tutti questi proclami il capo noi il coach lo stile di leadership l'Harvard Business Review e dicendo ma come mai sta gente qua pubblica queste cose e non sa da dove arrivano e non sa se sono vere o non sono vere noi stiamo studiandole queste cose dicono altro proviamo a divulgare quella che è la vera conoscenza strutturata scientifica di ricerca e hanno costituito questo gruppo di lavoro ancora da studenti questi sono da neolaureati hanno tutti trovato ovviamente subito posti di lavoro molto interessanti chi in consulenza chi in azienda quindi tanto di cappello a tutte queste persone che ho avuto anche il piacere di incontrare ringrazio tutte e tutte a questo punto vedo che c'è un ultimo grazie grazie a te Maurizio se non ci sono altre domande vi saluto e vi do appuntamento a gennaio Simona ti ricordi la data esatta il tredici gennaio mercoledì tredici gennaio perfetto mercoledì tredici gennaio parliamo di assessment se vi interessa il taglio l'approccio vuole essere più o meno lo stesso e anche lì speriamo di darvi la nostra visione di uno strumento devo dire che sarà un po' controtendenza la visione che vi proponiamo quindi se vi farà piacere ci vediamo sicuramente il tredici gennaio ci sentiamo prima ci trovate su LinkedIn ci trovate insomma facilmente e ciao grazie arrivederci grazie a tutte grazie a tutti